Immigrazione sul tema interviene la commissaria europea per gli affari interni Johansson. L'Unione scrive in un tweet che deve collaborare con i paesi partner per ridurre le partenze irregolari, gestire i flussi ed esaminare le cause. In diretta da Bruxelles il corrispondente Davino Moretti. Sì, c'è un'attività diplomatica avviata dalla Commissione europea e proprio la commissaria che ha appunto la delega sui migranti, Ilva Johansson, si trova in questo momento in Tunisia con il ministro degli interni Luciana Lamorgese. Un'attività diplomatica che prevede appunto un incontro in Tunisia in corso in questo momento con il presidente della Repubblica Tunisina, Kais Sayed. Ci sarà un altro viaggio in Libia a cui sta lavorando la Commissione europea. L'intento è quello di stringere una serie di accordi, intanto strategici, ad esempio con la Tunisia si parlerà di controllo dei flussi migratori irregolari, contrasto alla rete criminale, ma anche sviluppo di attività economica in Tunisia colpita come altri paesi del Mediterraneo dagli effetti della pandemia. E poi l'ampiamento dei canali regolari di immigrazione nell'Unione europea. E quest'ultima proposta fa parte del pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea su cui si vorrebbe accelerare per trovare una intesa. La questione dei migranti sarà discussa lunedì e martedì nel Consiglio europeo in presenza a Bruxelles, a cui parteciperanno i capi di Stato e di Governo. Quello che ha detto Loganson inoltre è che occorre rafforzare l'accoglienza volontaria, ma anche, se non sarà volontaria, obbligatoria dai residenti che hanno diritto d'asilo.